Ho rassegnato le dimissioni da Presidente del Consiglio, ma non mi arrenderò e da domani raddoppierò il mio impegno in Parlamento e nelle istituzioni per rinnovare l'Italia. Sì, sì, sì. Presidente, è troppo presto Non sappiamo come potrebbe reagire L'esperimento è troppo rischioso Non c'è più tempo, dottore Abbiamo bisogno delle nostre menti migliori per vincere ancora Proceda Obedisco Grazie Grazie Allegria Bentornato Mike, il futuro è ancora nostro E adesso portate la bara a Vittuone Ritrovate a Vittuone, in provincia di Milano La bara La Salma, del celebre conduttore I resti di Mike erano stati trafugati dal cimitero di Daniente Una frazione di Arona, il 25 gennaio scorso